Ciao a tutti ragazzi, bentornati con una nuova parte di Let's Play di Super Mario Bros. Perché devo fare sta pagliacciata? L'abbiamo registrato tipo un anno secondo fa. Perché devo salutare? Parirei per me. Perché salutiamo i miei iscritti. Che ci seguono da casa. Oh cazzo, tre pterodatili insieme? Pterodatili, sì. Sono proprio gli pterodatili. No! Sì! Pappa! Questo è tutto così. Cazzo. Queste sono delle cifre. I commenti. È tutto. È difficilissimo. A un certo punto. Tipo... No! Sono morto. Vieni, 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 sali sopra! Eh fuck. È lì la moneta. Insomma, è la seconda. No ma fuck. Ma se tu vuoi liberare, vieni, eh. È finito il livello. È già finito? No. Cioè, c'è la terza che è abbastanza complicata. Ah, almeno. Perché bisogna prendere. Ok. Bisogna essere almeno gigante. Almeno grande. Grande. Cazzo! Sì, è arrivato un coso in testa. È arrivato tipo a una velocità assurda. Guarda che pezzenti. Dove sei? Ah, sei in bollo. Strano. Non ti ho mai visto in bollo. Io ho fatto una roba super pro. C'è bisogno di aspettare anche l'altra. Qui. Spacca. Devi uscire? Ho fatto un paio di palle. Spacca. E' che siamo alla fine. È finito. 8.100. Logico. Fuck. Oh, il secondo, eh. Doviamo prendere la prima stella. Moneta. Eh, era all'inizio lì. Stella monetata. Quando siete detti di salire. Stella monetata. Bisogna salire. Stella monetata. Stella monetata. È arrivata. No. Nuvle di meringa. Perché qua tutti i mondi hanno cosi di dolci? Non lo so. E non entro più in gioco. Oh, guarda che sei dentro, eh. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Ti è arrivato un... Tardatelo in faccia. Ne avrete mai stavolta. Sì, mi hanno avuto. Che stai cercando di ottenere? Ah, sei andato nel tubo. Bravo. Corriiii. Io. 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 Non ti muo' niente? Mi diverti. Puoi farne anche due alla volta, eh, se vuoi. Hai visto come l'hai fermato? No. Ecco, l'imbecille. Guarda, ma cammina, ma non va avanti. Ma dai, non è troppo malefico un coso così. Rotolano. E per niente, i... Se... Non puoi salire sulla nuvola, se vuoi farla partire. Non so perché non c'è più la pianta lì. Oh! Fail. Abbiamo perso tutto il tempo, mi sa. Sono un... Tardatelo. Adesso... Sono miei amici. Sto morendo. Salverò io! Pterodattilo! Almeno ne ho ammazzati due. Potevi prenderla. Dillo. 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 Cosa provi per i... Per i ferodattili? Sono cucciolosi. NINCLEMERG! DINCLEMERG! Sì, dai, io vado. DINCLEMERG! Non ti libero! No! Cazzo! DINCLEMERG! Ma la bandiera è... Guardalo! 82, 28! Dillo! E' 82 monete! Dillo! E' 82 seconda cosa! No, 28 seconda. 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, di punte... Ma che cazzo! E' una data! E' una data! No, andrà di qui. Di sicuro sarà l'82 febbraio! 82 febbruio! Febbruio! Del 1987! 82! L'unica sfasata! Oh! Ah, questi qua sono dei piselli! Ma togli! Piselli! Avrò ciò che mi aspetta! Non voglio quelli! Porca si! E lo fai! E lo fai! E lo fai! Mario fuoco! Perché c'è Yoshi? Brr! Brr! Tu probabilmente lo abbandonarai tra... Tre... Due... No, gli faccio mangiare le vele! E poi lo abbandoni! Yes! Bitch! Bitch! Che si è mangiato? Tutto! No! L'ho abbandonato io! Ma non l'ho abbandonato! E' morto! Ah, qua farei il... Il coso, mi sa! Il rubuniglio! Papà! Marta, se mi deve scusare tutto! Lo ha detto bene mia madre quando devo... Mai! Giocare con Mr. Bob! Lasciamelo quello! Mi sto allucinando! Vedo cose che non dovrei vedere! Tipo... Mr. Bob che gioca da solo! Qua... No! Freestyle! No! I cosi! I lacchi tu! I lacchi... No! Sei suicidato il mio... Il mio Todd! Il mio... Il mio... Cosa! Yoshi! Dobbiamo prendere un cosa? Oh yes! La musica mi piace particolarmente! Eh... La musica standard! Papaparapam... Papapam... Paramparampam... Non la sto sentendo! Porco giuta! Oh! Ciao! Non ucciderli! Siamo nella merda! Tocca cancellarlo dalla vita! Dato che un altro abbiamo più Yoshi! Sei mezzo! Sì! Dru dru dru! Lì bastava saltare sui fuzzi! Non mi ricordo neanche più come si chiama! Niooooooo! Che faccia! C'era Todd che non capiva più cosa... Come... Mario sta dando il meglio di sé in questo livello! Mario è un pezzo di merda! Yo! Guarda! E anche i fuochi d'artificio ti dico... Ehi! Sono un figo! C'è Todd! Ehi Mario! Complimenti! È l'unica volta che hai vinto! E ci dà... Uno schiaffo! Mario hai vinto! Buu! Capocciata! Ok adesso devi andare a destra! Lascia il ghiaccio! Poi puoi bruciare! E' tutto! Quello lì davanti e indietro! Qua ci sono le nuvole! Ti fai rimbalzare! Vamonos! No non è vero! Ci sono queste! Ah! Ehm... Ma va... Ciao belle! Ciao belle! Ciao belle! Ciao belle! spero fermo fermo ok no dai datemi un power up please qua? non c'è niente si muore? si però ci serviva ci serviva un proiettile da portare guardalo mentre balla sono il genio del mare oh si no vieni dobbiamo portare un proiettile tipo ehi amico ma non si vada da nessuna parte è vero ah c'è entrata la sopra è la la vedi? eh allora ho capito cosa bisogna fare e noi possiamo farcela no dobbiamo fare una cosa di gruppo eh ho capito e te salto in volo vai sono vivo sono vivo sono vivo it's me Mario altrimenti no 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 andiamo via è troppo difficile per noi si buttò depressione alcolici mutica palla fermo che qui c'è c'è un passaggio segreto che non è qui tipo oh qui no tiello tiello eh grandissimo grandissimo non ce l'ho più grandissimo merda ok le abbiamo saltate gli altri due magnifico che livelli di merda proprio dobbiamo fermarci però there's my brother lo sto sentendo si mhm eh piccola pausa arriviamo subito la sopra si ok vedi che c'era poi aspetta questa è la seconda è la oh mio dio dove sei? bolla dalla moneta l'ha già presa lui vapevoli vai seconda ok ma che dici vai io sono già morto a me dico vai sono un grande la terza dove era aspetta? era tipo incastrata da qualche parte eh ah boh ho qui giuro ho sbagliato tasto eh fermo fermo ah lì sotto eh ok niente di che però sto pov ah si guarda allora fermo allora mi serve che mi fai partire qualcosa là su quello 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 là sopra ce la fai? aspetta che arrivo con te salta ok ora no è un casino torna torna indietro allora praticamente la moneta è sopra quel coso eh e teoricamente quando te prendi il pov la moneta parte e lui parte col coso eh e te devi correre la manetta quindi se ti poi io te lo faccio cadere in testa salta io è grande ha fatto il tuo tragitto un po' barata eh perchè teoricamente bisognerebbe correre e tipo mi sa che la moneta arriva lì in fondo e cade con questo capito figo ah si 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 sta yes yes no wow wow non so quanto siamo però dobbiamo probabilmente Ce la facciamo fare il castello di Kamek Ma dobbiamo prendere il fungo del rosso Eh ma non è che ci sono i funghi rossi No no vai vai Però non ci vuole molto Ma si tanto Dovremmo essere quel tempo Ok Prendile a casa Tanto non ce ne frega niente gli oggetti E' giusto per computare Prendi il buzzer Non lo so che ho preso Hai preso vittoria Ho preso Due funghi Utilissimi Scartati entrambi Allora scattiamo Brucia lì Brucia lì Nel forno Vai Oh Guida un ubriaco quindi Vai Torre degli ascensori a rotazione Ehi che nomi Manco Einstein No 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 Sai quante vite ci perdiamo qua Che verremo schiacciati un bordello di volte Tante Però già vola Che bisogno Dello peterò Cosa I can fly Fuck you Brutto Pazzo di cacca Guardalo Continua a uccidermi Bello I want my star Sei strafatto Fratello Si Oh Sono vivo Calmi Io Guarda te che Guarda te che Ma è questo lo stronzo eh Oh lì sopra cosa c'è Ti vado io Ah Un caucchio Un bagnette Tutto detto Poi moriamo E tante volte Aspetta No Fermo 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 Lì 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 sotto C'è da entrare No non è vero C'è niente Ho preso io Mia 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 Oddio Stavo rischiando di venire Schiacciato Wow Qua si viene schiacciato Un bordello di volte Guarda quella merda Lassopra Ia Baghino Deciso Sì Complimenti Ma spendeva qualcosa No Però non abbiamo entrato Nessuna moneta ancora Ed è strano Che è niente strano Vedi che moneta è Prima Va bene No perché Mi ricordavo una Io di questo me ne ricordo una Di cosa? Di moneta Quella No Me ne ricordavo un'altra Che tipo È più incasinata Che si fa con l'op zero Dattora Che cazzo sono? Non lo so In the bubble Vai Te l'ho lasciato Se ne sta andando Ok me lo prendo Yo Qui sopra c'è qualcosa No Ma smetti Sto drogato È diventato Un gioco Più di ciotto Sto gioco Che veramente Wow Mi volevi schiacciare? No No Mi sa che è qui sopra Ok Forse questa è la seconda Se ci va bene Ed è un casino questa Eh ok Questa ma Mi ricordavo questa Ho capito Yes Vedi che serve Lo potario 99 monete 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 Ah mi sa che si può entrare anche da qui Aspetta Non me la racconta Giusta Oh Fuoco fuoco Ma sei proprio una merda Ti sei buttato te E mi hai schiacciato Ok Anche questa adesso me la ricordo È un bordello Verremo Schiacciati Molte volte Troppe Dove cacchio Stava morita Aspettami Sì Lo voglio anch'io Lo voglio anch'io Sì 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 Ma chi è che c'è Ah Kamek 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 Detto Kamek Kamek Is that Guarda che figo da dietro Ma smetti Ti ricordi Kamek Cosa faceva La cacca Tipo faceva apparire i blocchi Ah già Dovevi inseguirlo sui blocchi Ecco Qua più o meno uguale Lì c'è dentro un bomb Figo qua però Più È cacchio Hdose Oh cazzo Eh Che pompato Che mi dicono un bull oltre la sieta Sì Cos'è? C'era qualcosa oltre la sieta Il buio Oltre la sieta Però è il bull Ok Ok Fuck Fuck no Ma muori Imbecilio Guardali come cadono Uno in schiena e l'altro Guardali come cadono uno in schiena e l'altro Guardali come guarda in giù Yeah Quei capelli che vuol Io Mario Mario Hit me Ok No Pai è ancora finito Sì è finito Cioè è a metà Oh c'è il nabit Ok Che dubbo Prossima parte Ok Cof cof Guarda che là sotto si vede un livello della foresta Ok Ci vediamo alla prossima parte Sì Ciao Ciao Let's play New Super Mario Bros See you Ciao a tutti Ciao